L'autopsia avrebbe confermato che Irene Margherito è stata uccisa da una sola pallottola che ha mandato in frantumi il finestrino dell'auto e l'ha raggiunta al mento fuoriuscendo dall'orecchio sinistro. La donna è poi morta alcune ore dopo nel reparto di rianimazione dell'ospedale Perrino di Brindisi senza mai riprendere conoscenza. L'esame autoptico è stato effettuato dal medico legale Domenico Urso su incarico del PM Paola Palumbo. Il corpo di Irene Margherito è stato riconsegnato alla figlia per la celebrazione dei funerali che si svolgeranno venerdì pomeriggio nella parrocchia del quartiere La Rosa. Parallelamente agli esiti dell'autopsia e degli esami istologici che saranno depositati entro due mesi proseguono le indagini condotte dai poliziotti del commissariato di Mesagne e della squadra mobile di Brindisi. In particolare saranno esaminati i contenuti degli smartphone posti sotto sequestro nell'immediatezza dei fatti ma anche le conversazioni nelle chat e sui social che hanno preceduto l'inspiegabile omicidio. L'unico indagato al momento resta Adamo Sardella, il 55enne doppiamente imparentato con la vittima che era sposata con il fratello ma che è anche il marito della sorella di Irene Margherito, un uomo senza precedenti penali che ha sparato in maniera spietata secondo gli inquirenti per uccidere la donna e anche il suo compagno e che per questo è accusato di omicidio aggravato dai futili motivi e tentato omicidio oltre che per il possesso della pistola calibro 7,65 con matricola Brasa con la quale ha compiuto il delitto.